Dal Vangelo secondo Marco In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai Suoi discepoli Passiamo all'altra riva E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca C'erano anche altre barche con lui Ci fu una tempesta di vento E le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva Allora lo svegliarono e gli dissero Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare Taci, calmati Il vento cessò E ci fu grande bonaccia Poi disse loro Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore E si dicevano l'un l'altro Chi è dunque costui Che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore Chi è stato in Terra Santa Non può non ricordare Se l'ha fatta, evidentemente La sua esperienza su una barca In mezzo al lago di Tiberiade È uno dei momenti più suggestivi ed emozionanti del pellegrinaggio Si viaggia in mezzo all'acqua Si guardano le rive del lago Si vedono i gabbiani, gli uccelli del lago che volano Si sente il vento L'importante è non beccare una tempesta Ma se c'è una tempesta non si esce neanche con la barca Perché ancora oggi le tempeste del lago sono terribili E di una tempesta ci parla il Vangelo di oggi E degli apostoli che si trovano in mezzo alla tempesta E di Gesù che dorme Dice Marco Stava poppa sul cuscino e dormiva Questa immagine di Gesù appoggiato su un cuscino Mentre intorno infuria la tempesta Tant'è vero che a un certo punto lo svegliano Perché hanno paura e gli rivolgono quella domanda Che anche noi tante volte Magari con parole diverse ma sostanzialmente è la stessa Tante volte rivolgiamo a Dio Maestro non ti importa che siamo perduti Non ti importa che moriamo Anche davanti a questa pandemia forse l'abbiamo pensato Ma Dio dov'è? Che cosa fa? Perché? Perché non interviene? Perché non fa qualcosa? Maestro non ti importa che moriamo Questo chiedono gli apostoli a Gesù Ecco E tante volte nella nostra vita Possiamo vivere la stessa esperienza Sembra che il Signore dorma Che non gli importi delle mie sofferenze E invece il Vangelo ci racconta Che Gesù Si alza in piedi Ordina alla tempesta di calmarsi E poi Perché avete paura? Non avete ancora fede? Qual è la fede? Che fede chiede Gesù? Chiede la fede di chi sa che lui invece c'è È lì in mezzo alla tempesta Magari non per calmarla Ma per condividerla insieme a te Ti chiede la fede di essere sicuro Che non sei solo Che anche se lui sembra dormire A lui importa della tua vita e della tua morte Che niente è fuori dal suo cuore Dal suo abbraccio Dalla sua compagnia Non sempre il Signore calma le tempeste della nostra vita Ma ci aiuta È con noi perché le attraversiamo E quando tu non getti la spugna Quando continui a sperare Quando anche dentro le difficoltà più grandi Continui a remare Diciamo così Per usare la stessa immagine E ad andare avanti Giorno per giorno E quando l'hai attraversata quella tempesta Ti chiedi Ma come ho fatto? Ma come ho fatto? Pensavo di non farcela A uscire da quel tunnel A superare quella difficoltà Ecco Il Signore c'è stato C'è Gli importa della tua vita Gli importa delle tue lacrime Gli importa dei tuoi affetti Gli importa di noi Sulla barca della nostra vita C'è sempre anche Lui E anche se qualche volta Sembra dormire La fede ci dice Al Signore Importa di te La fede ci dice A presto A presto Grazie a tutti.